E salve a tutti amici cuperiani e bentornati in questo nuovissimo video su Escape from Tarkov Allora, vi voglio dire che adesso sto provando a giocare con la connessione del telefono in 4G Fortunatamente ho trovato questa chiavetta quindi riesco a fare tutto E da, praticamente con la mia connessione di casa da 0.3 di upload adesso vado a 3 Quindi vediamo se cambia qualcosa, se teoricamente dovrebbe andare meglio Quindi, si prova, andiamo su Factory E vediamo, si va con lo scav che ci ho avuto un momento strano che non l'ho capito bene nemmeno io In cui qua su Factory mi ha dato un problema che mi ha preso in mano l'accetta e non mi switchava più arma E quindi, non lo so, forse sarà stato per i ripetitivi, crash per le prove e quindi poi c'è bugato tutto e bla 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 Quindi, boh, ora vediamo, ho poi finita questa sessione, vediamo un pochettino quanta connessione ho utilizzato di quella che mi è rimasta Che mi era rimasti 3GB e 7, vediamo magari in questa sessione poi quanti me ne rimangono Allora, siamo messi in questo modo Allora Possiamo dire che questo è stato un desync Anche con 2 non va bene, scusami eh Ok, devo dire che ci riproviamo Finchia, mi è ritornato qui Mettiamo in full out e vediamo se qua ci fosse ancora quello scavo, assolutamente no Vediamo se sposto questo caricatore Boh, va, me lo sposta bene Vediamo Ok Mi piace questa cosa Uh Minchia, io l'ho quasi distrutto però Cazzo Però va bene A noi ci va bene Ok, si butta anche questo Buttiamo via quello Ok Prendiamo Questo qui perché C'ha il coso, come si chiama C'ha il calcio, quindi è meglio E per adesso sto utilizzando la stessa Insomma non ho utilizzato quasi nulla di connessione Quindi speriamo C'è il grizzly, cazzo Non c'è nessuno morto a caso Oh, vediamo se c'è ancora quello Qua sopra Ho sbagliato Oh, si c'è ancora Se me lo fa luttare, ovviamente Scusami Non me lo vuoi più far luttare? Allora Ho provato a riconnettermi Vediamo che succede No, vediamo Perché fa Piuttosto come vuole Mentre gioco Poi mi muore Perché da Una bella connessione Era andato con un segno di merda Oh, cazzo Oh, cazzo Io voglio buttare via Quei fucili a pompa Metterci questo E poi il grizzly Ora Spero che lui qui dentro abbia Qualche Ok Quelli del P Ci piacciono Ok Che ben Don'altro del PP E questo è il PP Lo mettiamo così Così, 4 E 5 Ok Vediamo Ok Ora non sta collassando Eeeh E là c'è il grizzly Lo prendo Mi nascondo Tra virgolette Un attimo lì E lì Giustamente Non lo posso mettere Ok Allora Parlando La cosa bella è comunque Durante tutta questa sessione Non mi sto utilizzando Quasi nulla Di internet E Comunque Per ora sta Reggendo Molto bene Decisamente bene Ora A noi ci conviene Continuare così Eeeh Posso mettermi La pistola Qui Ecco L'ho detto L'ho detto Allora Praticamente sono 4 mega in download E 4 mega in upload Mi sta andando No 4 e 3 Ok Qui le cose Me le sposta bene Quindi non ci sono Problemi Il problema Il problema è Quando arrivano i problemi Minchia Mi sembrava uno vivo Quello Quindi Sendo me Una cosa Molto buona È quella Magari Di Levarsi Dai coglioni Portarsi via Questa roba E fare Magari Un altro Test Dopo Quindi Andiamo Vediamo se me lo da subito Ok Sì Diciamo che Va bene Uno E ok Bene 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 Zero XP Ma Va bene Perché guardate lì Ah Che cazzo Allora Ok Allora Qui ho sistemato Un po' Tranne questo Perché sinceramente Non ho dove infilarlo Perché questo Sarebbe un po' la predisposizione Dove mi tengo Queste file di questi Qua ci metto tutte le scaveste Solo due blackrock Quindi insomma Per adesso è questo Magari Questo Per adesso Lo sposto qui E va bene così Allora Adesso andiamo a fare Un pmc E visto Ne abbiamo Tanti Di hp Mi posso portare Un hp Però Voglio Siste Voglio Prendermi Questo Lo Apriamo Leviamo Il cariatore Li mettiamo Quei colpi Bene Ci Rubiamo Anzi no Ci andiamo A comprare Uno di Un copripolvere Di questi Ok Così Io lo mettiamo E siamo A posto Ora magari Di colpi Me ne prendo Sessanta Mi prendo Una scavvest E mi prendo Un caricatore Da questo qua Giù in fondo E va bene Così Ok Quindi Vediamo qua Mi posso Prendere Questo Fammi vedere Lo ripariamo Sinceramente Li possiamo Riparare Anche tutti Ed è Ok Ora anche Questo Ripara E va bene Così Ora noi Andiamo proprio Così A cazzo Duro Perché Tra non molto Dovrebbe Uscire Poi la nuova Paccia Quindi Per ora Va bene In questo Modo Qua ci Prendiamo Questo Che è messo Peggio Di quello Quindi va bene Così E va bene Possiamo andare In questo Modo Yes Si Senza Problemi Magari Ci prendiamo Una I In caso Serva Ce lo mettiamo Sul 4 Ah ok A posto Quindi Vediamo un pochettino Ho fatto Un test Prima di Partire E queste cose Me le insuro Ma no No Direi di no Ho fatto un test Prima di partire E mi dava 360 in download E 2 Barra 3 In upload Quindi vediamo Se regge Ok Allora Se regge E mi utilizza Poca Connessione Totale Non è male Insomma Pochi giga Del telefono Non è male Vediamo Lui Che fine Fa Vuol dire Che sto Già Laggando Esattamente Come Non Detto Allora Se andando Avanti Mi utilizza Sempre Insomma Poi inizio Sempre A laggare Significa Che mi Utilizza Più Cioè Andando avanti Mi utilizza Più Di quello Che gli Serve Perché se Ora provo Visto Cioè ora Mi rilagga Ancora E non capisco Va bene Allora si vede Che nemmeno Né due Né due Né tre Né tre Mega di upload Non gli vanno Bene a questo Gioco E io Non Non capisco Ora Riproviamo Un altro Pochettino Vediamo Cosa Succede Stavolta Magari La smetto Di controllare Ogni tre Per due Sto microfono Me lo sposto Un po' Più davanti Allora Vediamo Un po' Boh Va bene Allora va bene Vediamo Che succede Allora Ci andiamo Molto Piano Ci chiudiamo Questa Alle nostre Spalle E spero Di non Iniziare A laggare Mentre Sparo A qualcuno Che poi Comunque Hanno detto Che Nei prossimi C'è uno Qui sotto Comunque Nei prossimi Nel prossimo Aggiornamento Sistemeranno L'uso Di banda Eh vabbè Niente Sto Laggando Di nuovo Voglio troppo Fare uno Speed Test Vediamo Un pochettino Allora Ho fatto Uno speed Test E mi Sembra Un po' Strano Andare Cioè Laggare E avere 2.89 In upload Sembra Molto Strano Allora Ho fatto Uno speed Test E praticamente Sto andando Adesso Sul computer A circa 1.70 Mega E mentre Il gioco Me ne utilizza 0.9 Quindi Insomma Dovrei avere Un bel margine Di non lag E invece Siamo fottuti Allora Spawnare In questo Modo Non è Che mi Piaccia Tanto Spawnare Eh va bene Così No Però Spawnare Me ne ritrovo 3 E ora Vedete Ora Mi sta Buggato Così E questo Sicuramente È colpa Della Connessione Che Ok Allora Niente Io Ho rifatto I novel Test Mentre ero In gioco E mi Mi andava male Con Comunque 3 mega In upload E 4 In download Che alla fine Io quando gioco Normalmente Insomma La mia connessione Di casa Ho 4 In download Quando va bene 6 Per come dovrebbe Andare E 0.36 In upload E Quindi Continua A laggare Quindi Non Non so Perché Se al gioco Non va bene Nemmeno 3 mega In download Adesso E 3 mega In upload Adesso Mi spavento Un pochettino Comunque Questo video È stata Una prova Voglio provare Per un pochettino È andata bene Mi è Mi è piaciuto Rivedere Come andava Una volta Anche se Per poco E Purtroppo Per adesso Almeno per me Escape Ha questo problema E Visto Magari per quelli Nuovi Che non lo sanno Adesso lo sanno Ha questo problema Di Lag potente Per colpa Dell'uso di banda E ovviamente Non sono l'unico Ovviamente Cioè Girando sul forum Molta gente Dice Purtroppo Non è un problema Che sono giorni Che sta andando Ma sono settimane E mesi Che c'è questo problema Ma L'unica cosa Che gli sviluppatori Stanno facendo adesso È Aggiungere cose E io mi chiedo Perché aggiungete cose Se Se a qualcuno I server Non vanno E magari c'è qualcuno Che ha l'ultima versione Come me Che costa tanto E non può giocarci Proprio perché I server Utilizzano talmente Tanta banda Che Non riesce a giocarci Mentre ero L'alpha Andava da dio L'alpha Andava da dio E quindi Ok Però Si spera che Con il prossimo Aggiornamento Dove hanno detto Che migliorano Il traffico Dei server Dovrebbe andare Meglio Quindi Si spera che Anche con la connessione Direttamente di casa Non vada male Quindi niente Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Magari Per un po' di supporto Più che altro Perché sono sempre Depresso Per sta cosa Perché il canale È nato con Escape from Tarkov E non posso portare Proprio Escape from Tarkov È proprio Quando lo porto È rarità È magia Quando lo porto Quindi niente Spero che Il video vi sia piaciuto E niente Io Vi ringrazio E ci vediamo Alla prossima Ciao ciao Ciao